Buongiorno, la ricerca interiore è fatta di domande che destabilizzano l'io, domande che creano una situazione perturbante. Il perturbante è uno stato d'animo che destabilizza le certezze dell'io, ma proprio per questo lo apre al nuovo. In particolare il perturbante apre l'io a delle aspirazioni oscure dell'anima. Ed è in questo modo che noi possiamo dar voce alle varie voci dell'anima. Anima significa psiche. Ed ecco allora che il percorso psicoterapeutico diventa un'esperienza di deradicazione dell'io. La psicanalisi ci spiega che per diventare consapevoli di ciò che siamo e quindi individuarci, dobbiamo portare alla luce gli elementi oscuri che albergano nel nostro animo. E come si fa? Ogni processo di trasformazione psichica necessita del confronto e della relazione. Infatti l'individuazione è possibile grazie ad un rapporto affettivo. Un rapporto affettivo. Ma, ma, bisognerebbe oltrepassare l'idea che abbiamo di noi stessi. Altrimenti stiamo male e neanche ce ne rendiamo conto. La domanda è, siamo disposti ad interrogare noi stessi? Abbiamo l'onestà di chiederci chi siamo? Per vedere questa verità interiore occorre sviluppare uno sguardo particolare e non dobbiamo avere paura di soffrire. Non dobbiamo avere paura di saltare nel vuoto. Il vuoto. Il vuoto è l'antidoto al vuoto. L'eros. L'eros è l'antidoto al vuoto. Per saltare nel vuoto ci vuole eros, cioè dobbiamo essere innamorati. Ecco perché ci vuole una relazione affettiva per creare consapevolezza. Allora diventiamo eroici. Allora conquistiamo il vuoto. Bene, troverete molti altri video come questo nel mio canale YouTube. Buona giornata.